Ciao ragazzi, benvenuti al mio canale e ora ando all'aeroporto e arrivo a casa credo a 8 o'clock 9 pm e i miei bambini sento paura ma non penso che sia un grande problema i miei bracci sono completamente 80% recuperato qui e ora è ok credo che abbiamo iniziato di trainare il lunedì o il settembre ma voglio controllare le mie bambini con il mio fisioterapista e vediamo vediamo sul match con Leiva ho visto molte opinioni sul risultato e molte cose molte persone credono che sia 4-0 e molte persone credono che sia 4-2 la mia victoria è la mia victoria perché Leiva non ha competito e se non mettete le tue le tue le tue le tue le tue non voglio fare spesso per nulla Per me è stato un risultato molto grande, per farlo molte volte. Il mio migliore match, era il terzo match, quando ho farlo due o tre volte. Non lo ricordo, non lo ricordo. E la prima volta, quando il mio migliore continuò a andare fuori dal pad, era perché ho provato a pulire, ma con il migliore è sul limite, e quando ho pulito, continuò a andare fuori. Non è perché voglio pulire l'erboio di Levan per fare una fuori. Non è per questo. E ho visto l'interview su Levan, con il mio amico australiano Jake, con l'erboio di Levan. Non sono molto felice, perché ha detto che il rafferino mi aiutò molto, nel set-up. Non lo ricordo, ma ha fatto alcune scuole del match, ma non so perché, perché ha vinto. E questo è tutto. Non voglio fare discussione, perché Levan ha molto rispetto a Levan. Sono i miei amici. e sono sicuro, non vedo quando, ma magari al fine del anno, o al prossimo anno, mi diventerò più forte. E ora voglio crescere molte tecniche, e voglio crescere la mia braccia, perché è molto, molto forte, ma con Levan il problema è la mano. È una molto grande mano, è molto difficile da prendere qui. Ok, ora voglio fare un altro video. Non so quando, magari questo weekend, o al principio della prossima settimana, della situazione delle mie braccia. E restate collegati, e ricordate, restate forte.